Siamo Taranto, l'associazione che svolge il suo ruolo di volontariato nella pulizia di varie zone, soprattutto di periferie, svolgendo un ruolo di enorme supporto rispetto a quello istituzionale di Chima Ambiente Amio. Oggi una faticaccia in piena estate in via Mediterraneo tra Tramontone e Monrev. Facciamo un po' il bilancio della giornata. Il bilancio è stato sicuramente positivo perché è stata rimossa tantissima roba che sarebbe rimasta lì per chissà quanto tempo, ovviamente, perché la situazione è effettivamente drammatica e credo che le immagini dimostrino in pieno quanto drammatica possa essere la situazione, considerando che abbiamo curito un piccolo tratto e quindi considerando anche il numero ridotto oggi di volontari, proprio perché considerando l'estate, considerando il caldo e via discorrente, poi gli impegni che ognuno di noi credo che abbia a livello anche personale, familiare, logicamente, però la situazione è un... Certamente date un bel esempio alla città. Sì, credo di sì, perché l'esempio di civiltà è magari qualcuno, qualche sporcaccione, forse proverà vergogna con se stesso, dire io sporco, io deturpo la natura e ci sono persone che invece d'estate sotto il sole torrido si danno da fare. Comunque con franchezza credo che sicuramente le persone guardano, vedono e qualcuno magari prova un briciolo di rimorso, ma giusto qualcuno, perché purtroppo, duole dirlo, ma... Situazione in cancrenita. Assolutamente sì, ed è di difficile, è di difficile comunque, perché se non siamo coadiuati da altre forze non potevamo mai svolgere al meglio quello che può essere il nostro ruolo anche di volontari. Grazie.